buongiorno 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 benvenute benvenute a questa analisi dedicata ai titoli azionari più importanti del fuzzimib e anche quelli più richiesti su investi dove saluto come sempre tantissima gente che legge le mie analisi grazie 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 vi aspetto mi raccomando tutti tutti aspetto dentro la trading zone un servizio unico in italia la community pensata proprio per gli investitori traders ci sono tanti servizi a destra quotazioni news live tv le fx hitmet charts tante chat room dedicate ai veri mercati e ho aggiunto così come avevo detto certificati alla fine è arrivata anche quelle certificati dove stiamo parlando di possibili strategie andrò anch'io ad inserire quelle di turbo open and di unicredit cui link dell'home page la trovate anche nella descrizione del video per capire un po come sfruttare questi strumenti finanziari molto 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 interessante anche per chi non dispone di grossi capitali però vuole approfittare dell'effetto leva per guadagnare i bei soldini occhi che si possono anche perdere anche questi soldini aria condizionata a palla perché qui a manfredonia fa caldo fa caldo temperature ancora altissime come anche sui mercati che oggi stanno provando a reagire adesso vi farò vedere intanto mi raccomando registrati vieni sul mio sito renatodecarolis.it cercami su google facebook twitter linkedin instagram ti aspetto mi raccomando è bellissimo c'è un ambiente fantastico c'è anche la trading rock la colonna sonora della vostra giornata e dicevo andiamo a vedere questi mercati questi mercati che dopo una settimana difficile per i titoli inserita all'interno di questa analisi cominciò per esempio come sempre da Eni guardate Eni venerdì scorso ha toccato un nuovo minimo a 7.771 euro questo sotto il grafico un minuto vedete in questo momento sale di due punti percentuali sopra gli 8 euro ma viene da praticamente una settimana in cui ha perso 5 punti percentuali dal prezzo di apertura successivo alla candela rossa che arriva dato il 14 agosto il via a questa possibile inversione e ora si vede del verde da monitorare da monitorare e capire se possiamo parlare di inversione quindi occhio mi raccomando nella trading zone vi invito a venire anche per interagire con me per capire meglio c'è anche la playlist con i video che spiegano le mie strategie con le candele chi nasce poi da settembre ci sarà anche un servizio dedicato all'analisi dei titoli 40 tutti e 40 titoli italiani intesa in questo momento più 0 49 primo piano primo piano per intesa che è venerdì scorso ha toccato un nuovo minimo di periodo a 1.7910 il che significa tre punti percentuali dal giorno successivo alla formazione della candela rossa del 14 agosto con resistenza di riferimento 1.8972 occhio che adesso c'è del verde e potrebbe prendere come riferimento quella che in precedenza era la resistenza verso 1.8024 da monitorare quindi da monitorare questa sera la chiusura bisogna aspettare bisogna aspettare la chiusura per avere conferme di una possibile inversione al rialzo che non si vede su unicredit piatto piatto piattissimo il titolo dopo i fuochi d'artificio che si erano visti prima di ferragosto dall'ora laterale sotto questo livello 8.335 una mini resistenza che potrebbe portare ad un allungo sul supporto 7.72 conferma il rialzo solo con chiusura giornaliera sopra questo livello Telecom Italia è partito in sordina ha toccato un nuovo minimo a quest'oggi a 0.3614 il che significa tre punti percentuali dal giorno successivo alla candela rossa del 13 agosto poi è partito a rialzo probabilmente anche per effetto delle news che giungono dal Regno Unito vi faccio vedere l'articolo dal sito di Sky News UK dove si parla di una possibile takeover scalata l'approccio come vedete al British Telecom BT Group quindi probabilmente questo ha dato un po' di pepe anche al titolo Telecom Italia probabilmente in questo momento siamo più 1.26 ma il grafico resta ancora impostato al ribasso così come anche su Fiat venerdì scorso ha toccato un nuovo minimo a 9.10 euro sono quasi 7 punti percentuali dalla candela rossa del 14 agosto per resistenza di riferimento 9.946 è diventata più piccola indubbiamente segno che sono in meno adesso la presenza dei ribassisti è diminuita però c'è ancora del rosso pazienza pazienza mai avere fretta sui mercati io mi fermo qui grazie mi raccomando ti aspetto ti aspetto nella Trading Zone gratis è tutto gratis ci vediamo buona giornata buona settimana a tutti bye bye ciao